Oggi abbiamo Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle. Carlo, qual è stata la tua più pazza idea? Quella più folle, folle, folle idea? Di salire sul tetto per difendere la Costituzione. Ah, 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 chi? Vuoi dire... Ti odio, io ti odio, io ti odio, io ti odio, io ti odio. Ti odio i partiti che sono inutili e odiosi. E invece... Tra le politiche vorresti dire... Sei bellissima! Alla mia collega Carla Ruocco. E invece... Alla boschi solo perché vuole riformare la Costituzione. Hai mai fatto una cosa da matto? Matto da legare? Sì, mi sono messo in testa di voler abolire Equitalia. Vuoi cantare? Una canzone triste, 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 triste... Per Matteo Renzi. Eh sì, la vorrei cantare. Però adesso, diciamo, non mi viene proprio in mente. Portati via le riforme costituzionali. Oh Matteo. Oh Matteo Renzi. È una canzone d'amore. Per Grillo. Sei meraviglioso, dai. Meraviglioso. Ma come non ti accorgi di quanto Beppe du sia? Meraviglioso. Ciao, ciao Carlo. Ciao. Una nota ancora per dirci... Che siete brave e belle, bella trasmissione. Complimenti. Torna da noi. Ciao.